buongiorno come stai? dove hai messo le chiavi del carro armato? dove hai messo le chiavi del carro armato? dove sono ciccio? sei stata di compagnia oggi ciccio? ma io non amo a prendere, ma con città non amo a fare mi hai fatto dei sogni? youtube ciccio youtube casere hai presente youtube?